Rispondendo alle richieste di una parte dell'utenza e di alcuni amministratori locali circa la necessità di una revisione degli orari di uscita degli istituti superiori statali di Domodossola, dai rispettivi collegi dei docenti sono stati deliberati nuovi orari delle attività curricolari per l'anno scolastico 2023-2024. Al Marconi, Galletti e Inaudi, si seguirà l'orario 8.13.30 con due rientri pomeridiani il lunedì ed il mercoledì 14.15. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.